Amici Trebimete, un bentrovati da Luca Pace, giornata di mercoledì che vedrà ancora l'anticiclone dominare la scena sul Mediterraneo occidentale, tuttavia correnti un po' più fresche riescono ad insinuarsi sul nostro paese e portano a tratti instabilità. Nel dettaglio per quanto riguarda la nuvolosità attesa sulla penisola, vedete ampi spazi di cielo sereno, in particolar modo sui settori centro-meridionali, qualche nube in più a partire dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, occasione quindi per acquazzoni e temporali. Nel dettaglio ora le precipitazioni attese, avvio di giornata asciutto un po' su tutta la nostra penisola, poi vedete nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui settori alpini e prealpini con occasione anche per locali sconfinamenti sulle alte pianure del nord. In definitiva ecco la previsione per la giornata di mercoledì, come detto al centro-sud sarà una bella giornata di sole, qualche acquazzone spot proprio nel pomeriggio a ridosso dei rilievi appenninici. Al nord invece aumenta l'instabilità nel corso della giornata, dapprima su alpi e prealpi, ma poi in serata non escludiamo locali sconfinamenti anche sulle medio-alte pianure del Veneto e della Lombardia orientale. Temperature che tenderanno ad aumentare sulle regioni nord-occidentali e su quelle del versante tirrenico, altrove invece il caldo sarà sopportabile. Con questo è tutto, ulteriori dettagli nell'app gratuita Trebi Meteo.